Sono passati appena due mesi dall'armistizio dell'8 settembre 1943 e a Verona si sta tenendo il primo congresso della Repubblica Sociale Italiana. Proprio qui viene data la notizia che Igino Ghisellini, il federale di Ferrara, è stato assassinato nei pressi di Bologna. Immediatamente dall'assemblea si levano le grida di vendetta. Le squadre da Verona arrivano in città verso le 8 di sera. Iniziano le retate e in poche ore 72 cittadini sono raccolti nella caserma Littorio di piazza Fausto Beretta. Tra gli ostaggi c'è anche l'anziana maestra socialista Alda Costa, perseguitata per vent'anni dalla polizia fascista. Fra loro e i 34 antifascisti, ebrei oppositori del regime che erano già nelle carceri di via Piangipane dal 7 ottobre, si selezionano, ma non si sa ancora in base a quali criteri, i dieci ferraresi da passare per le armi per vendicare la morte del federale Ghisellini. Così, all'alba del 15 novembre, davanti al muretto del Castello Estense, vengono fucilati Emilio Arlotti, Pasquale Colagrande, Mario e Vittorio Anau, Giulio Piazzi, Ugo Teglio, Alberto Vitafinzi, Mario Zanatta. Sulle mura presso i rampari di San Giorgio, Gerolamo Savonuzzi e Arturo Torboli. Infine, il giovane ferroviere Cinzio Belletti, che tornando dal lavoro aveva assistito alla strage, viene inseguito per non essersi fermato all'alt e assassinato in via Boldini. I cadaveri vengono lasciati davanti al muretto per tutta la mattinata, come monito per i ferraresi. Solo l'arcivescovo Ruggero Bovelli, con un duro intervento presso le autorità fasciste, riesce a far spostare i corpi. Secondo lo storico Claudio Pavone, quello del 15 novembre 1943 a Ferrara può essere considerato come il primo eccidio di guerra civile in Italia. Un episodio narrato da Giorgio Bassani nel racconto Una notte del 43 e ripreso nel film di Florestano Vancini, La lunga notte del 43. Ogni anno Ferrara commemora quell'eccidio depositando una corona al muretto del Castello Estense, una commemorazione che si è tenuta anche quest'anno nel rispetto delle regole anticontagio alla quale hanno partecipato il prefetto e il sindaco di Ferrara, il presidente della comunità ebraica e il rabbino capo, in corso martiri, l'esposizione della mostra dell'Istituto di Storia Contemporanea, per non dimenticare.